E' una vicenda ingarbugliata quella dei circa 120 infermieri della ASL BT che il prossimo 31 ottobre vedranno concludersi i loro contratti con l'azienda ospedaliera. Una vicenda ingarbugliata perché dopo le rassicurazioni arrivate una decina di giorni fa e ben due determine di proroga, prima di tre e poi di due mesi, è arrivata la doccia gelida da parte della ASL, determina annullata e nessun rinnovo di contratto per gli infermieri precari. La situazione che oggi stiamo vivendo noi qui nella nostra ASL è una situazione veramente di indecenza perché comunque ci stanno proprio calpestando quello che è la dignità nostra di lavoratori e rispetto proprio per la persona perché a distanza di tre giorni noi ancora non sappiamo che cosa accadrà dei nostri contratti. Questa amministrazione ci ha un po' beffato e deriso perché qualche giorno fa è uscita una delibera in cui si parlava di un rinnovo. Dopo qualche ora questa delibera è stata ritirata, qua stiamo parlando di persone, non di carte, non di facce che non hanno né nome né cognome ma stiamo parlando comunque di dignità e noi chiediamo che comunque questa dignità venga ad oggi rispettata anche perché c'è un percorso nel quale noi precari rientriamo che loro stanno totalmente calpestando che è un percorso che ci porta ad uscire dal precariato facendo sì che loro possano darci 36 mesi e quindi poter poi accedere in una riserva, in un 50% di riserva al prossimo concorso che vogliono indire. Sotto la sede dell'ASL BT ad Andria questa mattina hanno iniziato la loro protesta alcuni dei 120 infermieri, gli altri invece erano regolarmente al lavoro in servizi essenziali per la comunità come per esempio in pronto soccorso, in medicina, negli ospedali del nord barese e così via. Maschere bianche, cappio alla gola, gli infermieri hanno voluto chiarificare in modo tangibile il sentimento che anima la loro protesta. La richiesta non può che essere quella di lavoro e dignità. Al primo novembre ci saranno reparti anche di area critica come i pronto soccorsi dove mancheranno numeri importanti di infermieri e ad oggi non ci sono sostituzioni o coperture, quindi è una situazione veramente grave per gli utenti anche. Voi sarete qui anche per diversi giorni, in realtà finché non ci saranno delle risposte. Esattamente, noi abbiamo iniziato stamattina e continueremo con questo stato di agitazione sperando di avere finalmente delle risposte chiare e definitive. In piazza sin da oggi il sindacato di categoria Narsinghap, anche se tutte le altre sigle sindacali, hanno già annunciato una partecipazione massiccia presso l'Asla BT proprio mercoledì 31 ottobre, ultimo giorno utile per il rinnovo dei contratti di questi 120 infermieri. Dall'oggi al domani si trovano con una cosa che nei fatti sospende gli effetti di una delibera che la Direzione Generale ha prodotto. Io colgo per intero la loro preoccupazione, ma chi al loro posto non la coglierebbe? Perché di fatto c'è che una delibera annunciata è stata ritirata e non si capisce se questo ritiro sia foriero di una novità positiva come loro ambiscono ad essere, ovvero un contratto più lungo addirittura dei tre mesi, due mesi prospettati oppure faccio il paio con una troncatura tucur al 31 ottobre.